Diventato Vescovo, prima di lasciare il Friuli, Adolfo vuole ricordare l'origine della sua vicenda, sia per la maggiorina, senza la quale nulla sarebbe venuto, sia a tuo cuore che costri, perché non ci si scordi mai di quello che siamo veramente. Marine, io non ti ho mai rilevato, che pal barcone avviati studiare da noi, tal scurbo lì che pensi, che non ti sta, che mi insegnare a guardare che il suo sprofone, ho sentito molto buon odore da prof, e la tua voce dolce, con quel suo trinone, che si rive pur di ogni altro di noi. Con tutto, che io sai bene, che il tempo accorre, e tutta volta sono passati 12 anni, di che mattina pulì, di plena voce, che con i tuoi tre canali, molto lì, se scanno, ho accompagnato il segreto di prevoce, la tua varia scura e sgrubblica, e come come ho vincoli a plenum, che ha tal motivo da mia vita posta dice, non va in lui essere sempre un per sé, se non fossi per i cileri di Sant'Omas, se non fossi per te, non sarei srebarcato, mi passa via un ricordo che noi tass, come le ripande gli stipri di là, come ho partito senza altri ricordi, che la neve si spandarà, o pini, o tà, di che quando mi nerve a diventa, come a diventa, come ho, sull'occhia, che in più, se non fossi per i cileri di��are, come ho trovi a diventa, come ho, bello sull'occhia, che in gioco i due, se non fossi per i cileri di caldo, che in crescere il secondo e di più, se non fossi per i cileri, e dai cileri di matto, come ho, Grazie a tutti. 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 Grazie a tutti.